GoSilent, un sistema di scarico che abbiamo applicato per ora all'app sospesa ma che successivamente potremmo andare ad installare, ad applicarlo anche su altri prodotti e quindi parliamo di sanitari, di WC. Qui sulla mia destra vediamo che fino al 2014 noi nella app sospesa usavamo il sistema tradizionale con la brita con il sottosquadro, con una brita quindi classica. Guardando il sanitario all'interno percepivamo tutto il sottosquadro di dove arrivava l'acqua per lo scarico e quindi avevamo la percezione di un prodotto tradizionale con un design tradizionale. Successivamente dal 2015 abbiamo lavorato su un sistema di scarico che abbiamo chiamato GoClean dove andava a sparire la brita tradizionale e dove lo scarico arrivava soltanto dalla parte diciamo posteriore del sanitario. Quindi c'era un piccolo sottosquadro da dove arrivava l'acqua che permetteva il lavaggio del sanitario. L'evoluzione del GoClean è molto importante perché fa sparire tutto il sottosquadro che dicevamo nella brita e quindi ci presenta un sanitario molto simile ad un molto pulito che facilita la pulizia da cui nasce il nome ma che aveva un sistema di scarico molto simile a quello tradizionale che avevamo fino al 2014. Oggi invece abbiamo fatto un passo successivo siamo andati a lavorare su un sistema di scarico che si chiama GoSilent dove spariscono tutti i sottosquadri. L'immagine tradizionale di un vaso quasi non c'è più se non nel piccolo pozzetto e dove abbiamo un invaso molto pulito dove c'è però un piccolo foro da cui arriva l'acqua che nel sistema di scarico aziona un vortice. Un vortice che pulisce molto bene il sanitario, un sanitario ovviamente senza brita, senza sottosquadri, molto pulito quindi è una forma estetica secondo me molto accattivante, molto nuova che non mi dà subito l'idea di vedere un WC dall'interno. La qualità comunque molto importante è che abbiamo un abbattimento del 50 per cento del suono percepito all'utente con questo nuovo sistema di scarico che quindi dà il nome appunto di GoSilent. Funziona molto bene nei bagni vicino alle camere da letto dove c'è bisogno spesso di questo di questa qualità ma anche nei contract, negli hotel e in tutti gli ambienti dove c'è bisogno anche qui di fare un po' più di silenzio durante le ore particolari soprattutto della notte.